Benvenuti all'angolo di Pagine d'Autore, una rubrica per entrare nel mondo dei libri. Mare fuori, le forme dell'amore, edito da Solferino in collaborazione con Rai Libri. Carmine, dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Tutte le volte che stendo i panni pure dentro a questi quattro muri, penso sempre a quando da piccirillo accompagnavo a mia nonna sopra la terrazza e lei cantava le sue canzoni preferite. Lucio Dalla, Pino Daniele, i Mattia Bazar e io dietro a lei. Ma solo oggi per la prima volta capisco come mai qualche volta si metteva a chiangere quando cantava quella che secondo me si intitolava Maria. Pensando a suo figlio, chiuso appoggio reale con una pena che ancora mio padre non ha finito di scontare. Cantava proprio a soddisfazione con tutta la voce che teneva e sognò la libertà e sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E ogni tanto si fermava per abbracciarmi e darmi un bacio sopra la testa, sulla fronte. Poi prendeva un'altra camicia di qualcuno dei miei zii e la attaccava con le mollette, stando attenta a metterla giusta perché lei ci teneva a fare tutte le cose per bene, come si deve, con i gesti precisi. Anche a me mi piace fare come a lei, stirare un po' con la maglietta con le mani prima di metterla sullo stendino. Così quando la ritiro poi è perfetta. Pure dalla nostra cella si vede il mare, però casette bianche non se ne vedono. Solo le navi da crociera che escono dal porto. Si vanno a fare i loro giri e poi ritornano. Io comunque non ho bisogno di sognare sopra a una donna che neanche conosco. Metto sul filo dello stendino le ultime cose, un paio di calze blu, due mutande e mi fermo a guardare il cielo che brilla sopra il mare. Che ore sono adesso? Se tutto va bene e il comandante ci mette una buona parola con la direttrice, domani stesso sarò con te, Nina mia. Con te, con la dottoressa che ci farà vedere il nostro bambino. Non ci posso credere, solo a pensarci, tengo il cuore nello zucchero. Il libro che vi consiglio è Mare fuori, le forme dell'amore, edito da Solferino. Una casa editrice bellissima che io ringrazio in modo particolare per avermi inviato una copia del romanzo. Edito da Solferino in collaborazione con Rai Libri. Scritto da Angela Lombardo, da Un'idea di Cristiana Farina. Dalla serie tv Mare fuori, seguita da milioni di spettatori, al romanzo ispirato alla stessa serie, ripercorriamo le storie che ci hanno fatto innamorare. In questo romanzo, tratto dagli eventi narrati nelle prime stagioni, riconosciamo in 12 capitoli le voci dei protagonisti che abbiamo tanto amato. Filippo, Occhiattil, Carmine, Edoardo, Ciro, Nadizza, Cardiotrap e tanti, tanti altri. Un romanzo profondo che mette in luce le debolezze dei personaggi, ma anche il loro essere tremendamente veri. Il luogo è l'IPM, l'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Una storia, anzi una grande storia, che ci fa riflettere sul mondo degli adolescenti. Storie sbagliate, ma anche capitate per sbaglio, che si svolgono all'interno del carcere, ma che in un modo o in un altro sono cominciate fuori. Tante le tematiche affrontate nel romanzo, le delusioni, l'abbandono, il degrado sociale, la violenza. Ma la speranza è quella di avere e di costruire un futuro migliore, di sognare nonostante tutto e soprattutto di cercare l'amore nelle sue molteplici forme e di scegliere quello che può rendere felici. Il bello di questo romanzo però è il narrare gli aspetti positivi attraverso personaggi come il comandante Massimo, la direttrice dell'IPM Paola, l'educatore Beppe, adulti che sanno ascoltare, che sanno comprendere i giovani e i loro bisogni, aiutarli in un progetto di vita, a realizzare un progetto di vita. Allora è un libro, Mare fuori, da leggere assolutamente, è una storia unica. Vi auguro buona lettura con Mare fuori, le forme dell'amore. Se volete seguitemi sul blog www.paginedautore.it o scrivete alla mia mail o ancora mi trovate su Facebook e Instagram. Buona lettura con Mare fuori, le forme dell'amore. Grazie a tutti.